Benvenuti al Conad Superstore in via del Novecento a Pesaro. La nostra accoglienza è differente. Per voi colazioni, pranzi veloci e aperitivi. Accomodatevi tra i colori e i profumi di frutta e verdura e dei prodotti da noi preparati. Carne di qualità e pesce fresco del porto, ma anche piatti pronti da cuocere. Pane e dolci lievitati e cotti in sede, gastronomia fredda e calda. Inoltre, oltre alle specialità locali e nazionali, tanti altri prodotti. E se vuoi, ti portiamo la spesa a domicilio. Conad Superstore in via del Novecento a Pesaro. Le persone, la nostra forza.